In vita alla prudenza e al rispetto delle regole per il contenimento della pandemia anche il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, che nel suo bilancio di un anno che se ne va, non ha mancato di lanciare un accorato appello a tutti i cittadini della nostra bellissima provincia. Dice, rimaniamo a casa, non è il momento di spostarsi, di uscire andando a vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi dalla maggioranza della popolazione che ha rispettato con grande senso di responsabilità le restrizioni necessarie, dolorose ma inevitabili. Atteniamoci con rigore alle ultime disposizioni nazionali e regionali e se dobbiamo uscire facciamolo con cautela. Questo Natale ci porta a riflettere. Ora è il momento di non perdere il terreno conquistato. La lotta alla diffusione del Covid-19 sta dando risultati positivi. I dati del contagio sul nostro territorio provinciale sono in discesa, quindi non dobbiamo abbassare la guardia proprio in questi giorni. Possiamo fermare questo virus tutti insieme, prendendoci cura gli uni degli altri, evitando azioni irresponsabili. Durante le festività prevediamo ulteriori spostamenti, forse per acquisti, natalizi, alimenti o per organizzare paranzi e riunioni familiari. Tutte azioni regolamentate dal Decreto Natale 2020 in vigore dal 19 dicembre, adottato proprio per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus nel periodo festivo. Per questo anche gli agenti della Polizia Provinciale sono in campo a monitorare il territorio in sinergia con le altre forze dell'ordine. Questo Natale 2020 sarà ricordato per la sua eccezionalità, come del resto, tutto l'anno che sta per terminare. Un anno, nello specifico particolarmente denso di lavoro, ricorda Strianese, un lavoro effettuato a servizio del territorio per arginare i problemi e soprattutto sostenere le famiglie, gli anziani, i giovani, le donne e gli uomini delle nostre comunità colpite dalla pandemia. Abbiamo operato per prevenire il diffondersi dei contagi in attuazione delle normative nazionali e regionali nelle scuole, nei musei, nelle biblioteche provinciali. Abbiamo aperto cantieri per migliorare la sicurezza della rete viaria e delle comunità scolastiche, ma anche per promuovere sviluppo economico ed occupazione. Abbiamo lavorato per il risanamento dei corpi idrici superficiali per depurare le acque. Sconfiggere realmente il Covid-19 passa anche dalla fondamentale tutela dell'ambiente. Tutti noi abbiamo fatto grandi sacrifici. Molti hanno perso familiari e amici, altri hanno perso il lavoro o sono comunque in difficoltà economica. Molti si sono ammalati e per fortuna sono guariti grazie alla professionalità e alla dedizione di medici, infermieri e operatori sanitari che non si sono mai fermati e spesso hanno perso la vita per salvare vite umane. Il Natale è unione e serenità, un momento in cui ci si stringe nei valori religiosi della natività, ma anche semplicemente all'insegna della pace e del rispetto reciproco per chi non crede. Anche se distanziati, sentiamoci vicini e fiduciosi, uniti ai nostri fratelli tutti, come ci ricorda l'enciclica papale dello scorso ottobre. Auguro a tutti, a nome mio e dell'amministrazione provinciale di Cestrianese, un sereno Natale, un anno nuovo di rinascita nel quale noi come provincia saremo presenti con la nostra attività, con il nostro impegno a servizio del territorio e di tutta la comunità provinciale. Grazie. Grazie.